Continua a salire anche se lievemente il numero dei positivi da coronavirus in provincia di Ragusa come nel resto della Sicilia. Torna la preoccupazione nel comune di Scicli. Sono passate due settimane da quando Gianluca Golino, 44 anni, è fuggito da una casa famiglia. Di lui ancora nessuna traccia, anche se sarebbe stato avvistato in diverse zone tra Scicli e Pozzallo. Scoperta dai carabinieri a Vittoria, due serre addibite alla coltivazione della marijuana. Arrestato un 22enne che aveva allistito un vero e proprio impianto indoor di ultima generazione. 5 milioni di euro contro il rischio idrogeologico a Ragusa. Si inizierà da Via Archimede, spesso teatro di pericolosi allagamenti. Ad illustrare tutti gli interventi il sindaco Peppe Cassì. Buongiorno e ben trovati. Apriamo il telegiornale con la risalita dei contagi in provincia di Ragusa come nel resto della Sicilia. Situazione sempre sotto controllo, anche se a Scicli aumenta la preoccupazione per diversi casi di positività in alcuni plessi scolastici. Intanto si aspetta il nuovo DPCM. Sentiamo. Grazie a tutti. Il servizio sarà esteso al restante personale dell'intero mondo scolastico, asili comunali, scuole regionali, scuole paritarie e altro ancora. Verrà quindi allargato il target anagrafico di riferimento come disposto dalle nuove normative nazionali per il vaccino a strizenica, ovvero cittadini dei 18 ai 65 anni. Intanto continua a salire, seppur lievemente, il numero dei contagiati da Covid in terra eblea. Ieri, inoltre, dopo sei giorni, un nuovo decesso. La vittima è una donna vittoriese di 83 anni. Sale con quest'ultima 199 il numero dei morti da inizio pandemia per coronavirus. Nonostante non ci siano numeri allarmanti tra i comuni ragusani, la città che preoccupa in queste ore è Scicli. È proprio Scicli che sono stati trovati diversi alunni positivi e disposta così la chiusura di diversi plessi scolastici. Il sindaco Enzo Giannone continua a ribadire a tutti i soggetti interessati a sottoporsi al tampone e a tutti i cittadini di rispettare le norme anti-Covid. In particolare, l'uso della mascherina è il divido di assembramento. La situazione per comune, intanto, è la seguente. Acate ha un aumento di due unità per un totale di quattro positivi. Chiaramonte 3, Comiso 17, Giaratana 1, Ispica 5, Modica 10. Monterrosso tiene il primato per i suoi zero contagi a distanza di giorni. Pozzallo 18, Ragusa 61, Santa Croce 7. Scicli aumenta di 6 con 16 casi, vittoria 110. Nelle prossime ore si attende la botta del nuovo DPCM che dovrebbe scattare il 6 marzo e si rischia la Pasqua blindata con linee molto dure. In Sicilia la curva dei contagi torna a salire e nella mappa dell'Unione Europea è arancione, una classificazione che in realtà indica le aree a minor rischio. Per quanto riguarda l'andamento della campagna vaccinale, la Sicilia è undicesima tra le regioni italiane nella percentuale della popolazione che ha completato il ciclo vaccinale, e il 2% rispetto alla media italiana che è del 2,25%. Il dato è emerso dal monitoraggio settimanale. Proseguono i controlli a tappeto dei carabinieri del Comando Provinciale di Ragusa nel territorio del Comune di Vittoria e nelle campagne circostanti. Scoperte due sere di marijuana è arrestato un 22enne disoccupato. Arrestato dai carabinieri di Vittoria un disoccupato vittoriese di 22 anni per spaccio di sostanze stupefacenti. Nel dettaglio, lunedì pomeriggio, i carabinieri del nucleo operativo hanno perquisito la casa del ragazzo incontrata a Fossa di Lupo, a Vittoria, trovando all'interno di una stanza di una villa situata in aperta campagna, a lui in uso, due impianti indoor di coltivazione della marijuana. Gli impianti di coltivazione rinvenuti, entrambi di ultima generazione, alimentati da deumidificatori, ventilatori, aspiratori, aeratori e alcune lampade alogene di scaldamenti, consentivano al giovane pusher di coltivare 15 piantine di marijuana. Inoltre, all'interno della sua camera da letto, i carabinieri hanno trovato mezzo grammo di hashish e un bilancino di precisione. Gli impianti di coltivazione, le piantine di marijuana e l'hashish sono stati sottoposti a sequestro. Alla luce di quanto scoperto e considerati gli elementi raccolti fino a quel momento, il giovane di 22 anni è stato per primo arrestato per poi essere sottoposto agli arresti domiciliari a disposizione dell'autorità giudiziaria di Ragusa. Sono passate due settimane da quando Gianluca Golino, 44 anni, è fuggito da una casa famiglia di Ragusa, dove era stato ospitato a seguito del riconoscimento della sua infermità mentale. Mercoledì si è tenuto uno dei tanti vertici tra le forze coinvolte nelle ricerche per organizzare le prossime mosse. Continuano però ad arrivare segnalazioni di avvistamento in diversi posti, specialmente a Scicli e Pozzallo. Le ricerche ancora continuano. Ci spostiamo a Ragusa, dove il sindaco Peppe Cassì ha recentemente comunicato del finanziamento di 5 milioni di euro destinati ad interventi contro il rischio idrogeologico. Con tali somme si potrà intervenire anche nella parte bassa di via Archimede, teatro spesso di pericolosi allagamenti. Sentite. Il comune di Ragusa lo è e lo è sempre stato al rischio idrogeologico. Prova ne sono stati i preoccupanti allagamenti di via Archimede nella parte bassa vicino a piazza Vanantoo. Quando piove diventa infatti un torrente d'acqua che ha fatto anche registrare recenti danni a causa dei forti acquazzoni, tombini straripanti, autobus e autovetture impantanate, un rischio anche per i cittadini. E le case allagate. Di recente la buona notizia, ovvero che il Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'Economia, ha stanziato 5 milioni di euro proprio per risolvere il problema del rischio idrogeologico nel comune capoluogo. A darne notizia il sindaco Peppe Cassì. I cinque interventi riguarderanno un collettore di acque bianche in via Carducci, un'azione di consolidamento della roccia nelle latomie di Cava Gonfalone, una nuova condotta per lo smaltimento delle acque bianche nella vallata di Santa Domenica e due opere pubbliche che ci permetteranno di canalizzare l'ingente flusso di acqua che con le forti piogge va a confluire nel tratto basso appunto di via Archimede. Grazie a questi interventi potremmo ridurre il rischio idrogeologico presente sul nostro territorio, ha dichiarato Cassì, e risolvere uno dei problemi cronici più urgenti avvertiti nella nostra città, il ciclo di allagamento di via Archimede. Ancora una prova, afferma Cassì, della capacità del nostro comune di ottenere finanziamenti realizzando progetti meritevoli. I lavori dovranno essere appaltati entro sei mesi. E su questo risultato, aggiunge l'assessore ai lavori pubblici Gianni Giuffrida, che premia innanzitutto i nostri uffici che ancora una volta hanno dato prova di tempestività e competenza, visto che meno di un terzo dei progetti proposti al Ministero dell'Interno è stato ammesso a finanziamento. In particolar modo, gli interventi che andranno a interessare gli allagamenti di via Archimede, a cui periodicamente assistiamo, consistono nella realizzazione di collettori delle acque bianche tra Piazza Croce, Via Lissia, il Piazzale Antistante, la Polimere Europa e da via Ducezio e lo stesso piazzale. Così facendo, potremmo intercettare e canalizzare a monte l'ingente flusso di acqua che si crea nei giorni di pioggia intensa, che con gli anni sono divenuti sempre più frequenti. Ed ora Scigli, dove il rilancio del tessuto economico e produttivo della città messo in ginocchio dalla pandemia è stato al centro di un confronto tra l'amministrazione comunale e il commercio. Attivare un tavolo di confronto per individuare insieme le azioni da mettere in campo finalizzate al rilancio del tessuto economico e produttivo della città di Scigli. Questo il tema al centro dell'incontro che si è svolto nella stanza del sindaco tra l'amministrazione comunale e la confcommercio sezionale. Le problematiche emerse nell'ultimo anno a causa dell'emergenza sanitaria, la chiusura delle attività, quale conseguenza dell'azione di contrasto al Covid-19, la riduzione del fatturato e le difficoltà della gestione, sempre maggiore sono stati gli elementi su cui si è discusso e ragionato con l'obiettivo di avviare un'azione congiunta, dando vita a un gruppo di lavoro per far ripartire gradualmente le attività commerciali. In un periodo così difficile in cui la crisi ha messo in ginocchio tantissime attività commerciali, i componenti di confcommercio Scigli e confcommercio provinciale si sono rimboccati le maniche lavorando per il territorio e soprattutto per i commercianti che non si sono visti arrivare ancora alcun aiuto da parte del Comune di Scigli. Al centro del confronto, i mancati aiuti appunto del Comune, la rimodulazione della tassa su rifiuti per andare incontro a chi in questi ultimi 12 mesi non ha potuto lavorare con continuità. L'esenzione del pagamento della TOSAP fino al 31 dicembre 2021 su quest'ultimo punto si è ragionato anche in funzione dell'utilizzo delle deorse più ampie per permettere a bar e ai ristoranti di poter lavorare tutto l'anno. Siamo disponibili ad effettuare tutte le verifiche necessarie per capire quali sono i margini su cui possiamo lavorare. Ha in sintesi risposto l'assessore Pitrolo e il vice sindaco Ricotti la nostra intenzione è quella di venirvi incontro al massimo delle nostre possibilità perché siamo perfettamente consapevoli delle difficoltà che state vivendo e della necessità di collaborare per recuperare il prima possibile quanto è stato perso nell'ultimo anno sottolineando tuttavia le difficoltà economiche in cui versa l'ente che impediscono aiuti concreti dallo stesso ma che si potranno concretizzare solo con l'arrivo dei finanziamenti regionali e statali. L'amministrazione ha ribadito anche l'importanza di sostenere la ripresa attraverso fondi e misure che possano contribuire a rendere il tessuto produttivo della città più attrattivo anche in prospettiva futura. ConfCommercio nella qualità di rappresentanza di categoria ha deciso di mettere in campo azioni che vanno nel segno del voler far rete e coniugare un concreto rapporto collaborativo e reale. Crediamo che questa, hanno spiegato i rappresentanti dell'associazione, possa essere una delle chiavi vincenti in un momento particolare per il commercio cittadino che necessita di sostegno, attenzione e sinergie. Nonostante la pandemia e il lockdown, continua a crescere la produzione e la richiesta del cioccolato di Modica. Lo scorso anno si è registrato un 20% in più rispetto al 2019. Ad elencare i risultati è stato il direttore Nino Scivoletto. Consorzio di tutela del cioccolato di Modica, risultati conseguiti e obiettivi futuri. Questo il tema della conferenza stampa alla quale hanno preso parte il sindaco di Modica Ignazio Abbate, il presidente del consorzio Salvo Peluso e il direttore Nino Scivoletto. Risultati illustrati proprio dal direttore Scivoletto, a margine dell'incontro con la stampa. Prima di tutto si è ricordato lo spirito della normativa europea dalla quale discendono le IGP, volta a tutelare la caratteristica produzione, nel nostro caso di cioccolato, la sua storia e il suo territorio, favorendone la crescita, la notorietà, la promozione e la tutela. Un prodotto IGP ha dichiarato Scivoletto nasce dalla sempre più esigente necessità del consumatore di passare dalla qualità dichiarata alla qualità certificata. Il consorzio, con il sostegno del Comune e della Camera di Commercio, ha condotto negli anni una notevole attività volta a modificare la normativa europea per l'inclusione del cioccolato fra i prodotti ammissibili a tutela. Senza tale modifica nessun cioccolato in Europa sarebbe potuto diventare IGP. L'impegno delle aziende produttrici di cioccolato di modiche IGP si è fatto sentire nel mercato e i risultati non si sono fatti attendere. Le aziende produttrici sono complessivamente 23, di cui 16 consortili. La produzione di cioccolato di modiche IGP nel 2019 si è attestata su 171.000 kg per 2 milioni circa di barrette, mentre nel 2020 ha raggiunto i 209 kg per oltre 2,4 milioni circa di barrette, registrando un incremento pur in presenza della pandemia da Covid di ben il 20%. In ordine alle due questioni poste dalla stampa, ovvero i costi di certificazione e il nuovo consorzio, ha chiarito Scivoletto che si tratta di 400 euro per le imprese che producono fino a 3.000 kg di cioccolato, fino ad arrivare a 700 euro, sempre l'anno, per chi produce oltre 3.000 kg di cioccolato. Per quanto riguarda invece il nuovo consorzio, il direttore ha confermato che è destituita ad ogni fondamento la notizia, secondo cui il consorzio sarebbe inadempiente per non aver presentato della documentazione al Ministero, per la semplice ragione che non vi è alcuna documentazione da presentare. Infine, un riconoscimento all'impegno di Franco Ruta per l'attività di promozione del cioccolato di Modica, il cui nome è legato per tale impegno nel 2018, gli è stato anche conferito il premio Maria Scivoletto. Da illuminato imprenditore, egli non solo aveva intuito il valore del connubio del cioccolato e il territorio, ma soprattutto aveva avviato un fecondo processo di riappropriazione del patrimonio d'orciario che Modica oggi può vantare. 200 partecipanti al corso di formazione sul progetto individuale, strumento per l'inclusione e per il dopo di noi, un progetto organizzato dall'ANFAS di Palazzolo, in collaborazione con ANFAS Sicilio. Il Presidente nazionale dell'ANFAS, Roberto Speziale, ha aperto il discorso con la sua affermazione «Non vogliamo più concessioni, ma desideriamo semplicemente che vengano riconosciuti e applicati i nostri diritti». Il corso di formazione sul progetto individuale «Strumento per l'inclusione e per il dopo di noi», organizzato dall'ANFAS di Palazzolo a Creide, in collaborazione con ANFAS Sicilia, fortemente voluto dal Presidente Giuseppe Giardino, che guida l'associazione sia nella sua città che a livello regionale. ANFAS ha contribuito nelle opportune sedi all'elaborazione e stesura della legge sul dopo di noi e durante noi la 112 del 2016, emanata per favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l'autonomia delle persone con disabilità grave. Una legge importantissima che però necessita della preparazione di una serie di strumenti che ad oggi gli enti pubblici non sono stati in grado di mettere in atto, sia per mancanza di una programmazione adeguata, sia per mancanza di un'adeguata formazione degli operatori. L'ANFAS dispone degli strumenti necessari per mettere in atto ciò che serve e li mette a disposizione di chi ne ha bisogno. Petta adesso alle istituzioni cogliere questa opportunità. Su questa sono stati incentrati gli interventi dei relatori del corso di formazione rivolto agli assistenti sociali e agli operatori del settore che è stato molto partecipato, circa 200 partecipanti. Il Presidente dell'Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Sicilia, Giuseppe Glaceffa, ha ribadito il concetto di collaborazione e ha sottolineato la necessità di avere un ruolo importante all'interno delle istituzioni, affermando che è necessario non dover bussare ma entrare con i propri piedi, nei luoghi decisionali, perché occorre trovare delle soluzioni possibili e dare prospettive e serenità alle famiglie. Il Presidente Salvoraffa ha sostenuto l'iniziativa ribadendo l'importanza della collaborazione, mettendo in evidenza il ruolo dell'assistente sociale che è il primo punto di riferimento sul territorio per il volontariato. A chiudere gli interventi, la consulente dell'ANFAS nazionale, l'Avvocato Alessia Gatto, che riprendendo il discorso del Presidente Speziale, ha puntato l'attenzione sull'accesso ai diritti esigibili, ribadendo che il progetto individuale di vita è un diretto fondamentale per le persone con disabilità e parlando in particolare dei provvedimenti giudiziari in ambito dei progetti individuali, ha la valutazione multidimensionale e progettazione individualizzata. Al termine del corso, il Presidente Speziale ha lanciato un appello «Basta assistenzialismo, non dobbiamo servirci delle persone con disabilità a messere al loro servizio». Un pensiero condiviso dal Presidente Giordina che ha ringraziato i numerosi partecipanti e gli esperti che con i loro qualificati interventi hanno contribuito a creare un momento di riflessione, formazione e informazione. Ed ora lo sport con la volley e l'Avimec Modica che dopo la brutta sconfitta contro Tuscania si prepara ad affrontare domenica prossima Falù Ottaviano, obiettivo fare punti e riguadagnare la fiducia persa. Archiviata la sconfitta interna contro Tuscania dopo una buona prova contro una Big è tempo di pensare alla prossima gara per l'Avimec Volley Modica. La trasferta contro Falù Ottaviano nasconde parecchie insidie e Bua sa bene quanto è importante restare concentrati sul campo senza guardare la classifica. Vincere è l'obiettivo dei ragazzi e di Bush in particolare. Il ragazzo ha sposato la causa modicana all'inizio stagione certo di poter crescere e dare il massimo con la maglia della contea. Un buon inizio che ha mostrato tutte le qualità ma soprattutto le potenzialità per il prossimo futuro. Proprio Shlaumir si è soffermato a parlare di Modica e del suo arrivo in città. Trovo che Modica sia una città davvero bella sia da vivere e da visitare. Qui ho trovato una squadra fatta di giovani sia in campo che in società. Una squadra che può crescere tanto e che ora deve pensare a dare il massimo in ogni partita per raggiungere la vittoria. Sul suo rapporto poi con l'allenatore Giuseppe Bua ha dichiarato Penso che Bua sia un ottimo allenatore. Stare vicino ai nostri ragazzi nei momenti più critici e riesce sempre a insegnarci qualcosa anche durante normalissimi allenamenti. Con lui ho il classico rapporto che può avere un giocatore con il suo allenatore. Infine sulla gara contro Faluo Ottaviano di domenica prossima penso che la nostra sia una squadra pronta ad affrontare tutte le gare. Dobbiamo essere bravi a concentrarci solo sul nostro gioco. Dobbiamo fare bene e concederci pochi errori. Iniziare a pensare in questo modo spero ci possa portare a raggiungere la vittoria. Bene, è tutto. Il telegiornale termina qui. Grazie e buona giornata.